eh ma non si sono alzate no 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 1, 2, 3 cioè è stata una leggera perturbazione grandi così vi voglio cariti Monza ancora come stai facendo lì? ah ma si fuma sul palco ma io non lo so guarda io direi che adesso facciamo siccome il Monza da accunta negligenza facciamo vedere che facciamo anche i pettinati guarda eh facciamo i pettinati un po' così ecco va bene va